Ciao, bentornati e bentornati. In questo video vi parlo di una formula matematica molto carina e vi proporrò una dimostrazione altrettanto bella, quindi una bellezza al quadrato. Allora, vediamo di cosa si tratta. Qua abbiamo la sommatoria da n uguale a 1 più infinito di 1 su k alla n, che significa sostituire al posto di n i numeri da 1 a infinite e sommare ogni termine. Cioè in pratica è 1 su k più 1 su k alla seconda più 1 su k alla terza e così via fino all'infinito. Questa somma di infiniti termini converge, cioè da un numero finito, che è uguale a 1 fratto k meno 1. Naturalmente è valida per k maggiore di 1. Facciamo alcuni esempi per capirla meglio. Se poniamo k uguale a 2 abbiamo che un mezzo più 1 fratto 2 alla seconda più 1 fratto 2 alla terza e così all'infinito è uguale a 1 fratto 2 meno 1, cioè uguale a 1. Invece la somma di tutte le potenze di un terzo è uguale a 1 fratto 3 meno 1, cioè un mezzo, mentre la somma delle potenze di un quarto è uguale a un terzo e così via. In pratica basta abbassare di una unità la base della potenza iniziale per ottenere il risultato finale. Di questa serie si possono anche dare delle dimostrazioni geometriche visive per casi specifici, ad esempio l'ultima può essere visualizzata immaginando che questo quadrato nero è un quarto del quadrato grande. Se sommiamo quest'altro quadrato nero che è un quarto di un quarto, cioè 1 fratto 4 alla seconda, si ottengono questi due quadrati. Se poi ripetiamo il procedimento all'infinito abbiamo questa somma che è proprio uguale a un terzo della figura completa perché la parte nera è uguale alla parte verde che è uguale alla parte rossa, quindi ogni parte è un terzo del tutto. Ora, però io vi propongo una dimostrazione della formula generale. Questa formula normalmente viene dimostrata per induzione, invece noi la dimostreremo sfruttando i cambiamenti di base, cioè i numeri scritti non in base 10 ma in una base diversa da 10. Prima di passare alla dimostrazione vera e propria vediamo questo lemma. Che cos'è un lemma? È un teorema che precede il teorema che vogliamo dimostrare. In pratica serve per spezzare la dimostrazione in due parti per renderla più comprensibile. Allora, come è noto, 0,1 periodico è uguale a un nono. Anche se cosa nota lo dimostro velocemente, sia perché non è noto a tutti, sia perché questi passaggi ci serviranno dopo. Allora, chiamo x 0,1 periodico, quindi 10x è il numero che si ottiene spostando la virgola, quindi 1,1 periodico. 9x lo posso scrivere come 10x meno x, quindi 1,1 periodico meno 0,1 periodico fa semplicemente 1. In sostanza 9x uguale a 1, quindi x è uguale a un nono, come volevamo dimostrare. Invece, 0,1 periodico in base 9, questo 9 in basso vuol dire in base 9, quando non è specificato la base è 10, è uguale a un ottavo in base 9. Ma un ottavo in base 9 è anche uguale a un ottavo in base 10, perché in base 9 vuol dire che le cifre vanno da 0 a 8, e poi anziché scrivere 9 si scrive 1,0, che vale 9, ma per le cifre da 0 a 8 tra base 9 e base 10 non cambia nulla. La dimostrazione è analoga a quella precedente. Chiamo x 0,1 periodico in base 9, quindi 9x è uguale a 9 per x, ma 9 in base 9 si scrive 1,0, quindi questo sarebbe un 9 in base 9. Però di fatto moltiplicare per 1,0 vuol dire sempre spostare di un punto alla virgola, e quindi è uguale a 1,1 periodico in base 9. Ora, in modo analogo a prima, 8x lo scrivo come 9x meno x, quindi 1,1 periodico in base 9 meno 0,1 periodico in base 9, che fa semplicemente 1. Quindi 8x uguale a 1, e quindi x uguale 1 ottavo. E così posso procedere per tutti gli altri numeri. Con una dimostrazione analoga posso dimostrare che 0,1 periodico in base 8 è uguale a 1 settimo. In pratica 0,1 periodico in base k è sempre uguale a 1 fratto k alla meno 1. E qui ho riportato la dimostrazione generale, x uguale 0,1 periodico in base k, quindi kx è uguale a 1,0 in base k per x, quindi uguale a 1,1 periodico in base k, e procedendo in modo analogo si ottiene che x è uguale a 1 fratto k meno 1. Già questa proprietà è abbastanza interessante per quanto riguarda i numeri periodici in base diversa da 10. Ma ora vediamo come sfruttare questo fatto per dimostrare la formula iniziale. La sommatoria da 1 infinito di 1 su k alla n è uguale a 1 fratto k meno 1. Cominciamo col dimostrare la formula per k uguale a 10, quindi la sommatoria da n uguale a 1 più infinito di 1 fratto 10 alla n, cioè un decimo più un centesimo più un millesimo più un decimillesimo eccetera, è uguale a 0,1 periodico. Perché un decimo è 0,1, un centesimo è 0,01, un millesimo è 0,001 e così via. Quindi se sommo tutte queste frazioni ottengo 0,1 con infiniti 1. Abbiamo detto che questo è uguale a 1,9. Invece la sommatoria da n uguale a 1 più infinito di 1 fratto 9 alla n lo posso riscrivere in base 9 come 1 fratto 1,0 alla n. 1,0 in base 9 è sempre 9, non è un 10, è un 9 scritto come 1,0. Quindi è uguale a 1 fratto 1,0 sempre in base 9, più 1 fratto 1,0 sempre in base 9 e così via, che fa 0,1 periodico in base 9 che è diverso da 0,1 periodico in base 10 perché questo è uguale a 1 ottavo come abbiamo dimostrato prima. E così posso procedere per qualunque numero. Quindi la sommatoria di 1 fratto 8 alla n è uguale a 0,1 periodico in base 8 cioè un settimo e più in generale la sommatoria da n uguale a 1 più infinito di 1 su k alla n è uguale a 1 fratto k meno 1 come voleva si dimostrare. Grazie. Grazie. Grazie.